La prova del Senato, incassata la fiducia alla Camera con la maggioranza assoluta e la Presidente del Consiglio Conte tenta di superare lo scoglio di Palazzo Madama. E se oggi a voi che siete qui in quest'Aula, i cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a testa alta? Non è per l'arroganza di chi ritiene di non avere mai sbagliato. L'obiettivo è quello di ottenere comunque la fiducia, si parla di una forbice che va dai 154 ai 158 voti senza raggiungere il numero magico di 161 che vuol dire maggioranza assoluta. Un passaggio rischioso anche se Italia Viva conferma al Senato la sua stenzione. Non ha la fiducia dall'Udc, si invece dall'ex Cinque Stelle De Falco e da Mario Monti. Presente in Aula anche la senatrice a vita Liliana Segre, accolta da un lungo applauso. Da parte sua Conte nel suo intervento mantiene la porta chiusa a Renzi, il cui nome non viene mai pronunciato nel suo intervento. Presidente del Consiglio che lancia ancora un appello alla responsabilità a tutte le forze moderate ed europeiste. Un sostegno, dice, limpido e trasparente attraverso un patto di fine legislatura. La solida vocazione europeista del nostro paese in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo. La seduta di Palazzo Madama questa mattina è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo dell'ex senatore Emanuele Macaluso, storico dirigente del Partito Comunista, scomparso nella notte all'età di 96 anni. Quando una storia volge al termine vale la pena dirci le cose senza che rimanga niente in sospeso. Noi pensiamo che il suo governo non sia il governo più bello del mondo. Non sia, come lei ha detto, il governo migliore del mondo. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, per la tragedia in corso, ci sia bisogno di un governo più forte. Si ricorda, vero Presidente, quando diceva che abbiamo bisogno, se lo ricorda questo intervento, no? Lei disse che non abbiamo bisogno di uomini con i pieni poteri, ma con senso delle istituzioni. Proprio lei parla. Ma si dimetta solo per questo! Solo per questo si dimetta! E come si risponde alle provocazioni? Presidente, se qualcuno la vuole fare, noi la difendiamo. Noi resistiamo. Noi andiamo avanti. Proprio perché la ostacolano, noi andiamo avanti. E fa bene a fare un richiamo di responsabilità. Noi non temiamo le elezioni. Noi siamo l'Udc, Presidente Conte. Quelli che nel 2008 andavano da soli. Non piegarono a nessun invito e andavamo da soli alle elezioni. Quindi figurarsi se le temiamo. Ma non vogliamo che il Paese cada nella palude per altri mesi.